Cioè è il post figurativo consapevole della impossibilità della forma. I romantici non sapranno mai di nulla, di alcuna irruzione. Si vedono davanti Napoleone, lo spiritualizzano, lo liricizzano. Si vedono davanti Metternich, lo liricizzano. La loro superbia, la loro superbia luciferina, è al tempo stesso una infinita modestia. Cioè noi possiamo fare tutto a parole e non facciamo niente nei fatti. Capisce che lì c'è soltanto ideologia, cioè un minuetto di linguaggi tutti preformati e tutti infinitamente prevedibili, che servono essenzialmente a esorcizzare la realtà. C'è il racconto che un'epoca fa di se stessa. Non può non esserci questo racconto. Ogni epoca si è raccontata. Ogni epoca ha corso il rischio di essere romantica, cioè di specchiarsi ineffettualmente in una tautologia infinita. E in ogni epoca c'è stato sia chi la storia la faceva, sia chi, facendo arte, era capace di porgere l'orecchio e di far capire che fuori dalla bolla della narrazione si muovono le potenze della storia. Dove stanno coloro che ci dicono qualche cosa di non tautologico? Dentro l'universo della mediazione, qual è quella forma che allude all'immediatezza, cioè al fatto che fuori di noi stanno capitando cose? Come vedete, la percezione più radicale del problema della modernità ti può portare a vivere la tragedia della modernità o a startane tranquillamente in poltrona, a bearti di un superamento soltanto effettivo della modernità. Non c'è la soluzione a questo. Qui, davvero, qualunque cosa tu faccia è un rischio che devi, se credi, devi correre consapevolmente. E poi la tesi di Zinz, quando adopera la canna, dice va bene, l'ideologia è simbolico, se ne viene fuori soltanto con un atto mutuo. La violenza, questo è un libro violento, la violenza di questo libro è proprio l'espressione del fatto che Schmidt vuole rompere delle sbarre e sa che fuori da quelle non c'è davvero niente, se non il fatto che altri costruiscono attraverso decisioni e mediazioni il mondo, che l'intellettuale è schiacciato nelle proprie microsfere e che se quell'intellettuale vuole fare la rivoluzione, come a un certo punto volerlo fare i romantici tedeschi, liberali tedeschi, finirà male, cioè non ci riuscirà. Il cuore del libro è un discorso, se vogliamo, sugli intellettuali e sulla loro impotenza. La rivoluzione o è una burletta, come quelle che stanno facendo adesso in Baviera, o in ogni caso non cambierà di una bricciola la sostanza, anzi la mancanza di sostanza della modernità. Dovendo scegliere è chiaro che preferisce la rivoluzione e infatti in questo libro no, ma in un libro sostanzialmente coevo, anche se scritto a casa di Dio, a Greifswald, come la dittatura, lì proprio c'è, la deduzione trascendentale di Enio, cioè lì c'è. Alla fine non poteva non andare a finire così, la concretezza è quella lì. Certo è una concretezza tutta moderna in cui la concretezza non c'è più, perché appunto una rivoluzione dimostra in sé che a questo mondo puoi fare tutto quello che ti parli. se sai fare, se sai da che parte cominciare, cioè se hai nozione dell'origine. Se non ce l'hai, sei un romantico che chiacchiere. E qui c'è l'ascendenza inevitabilmente, diciamo, oggi è romantico quello che passa la vita davanti alla tastiera di un computer a inventarsi un mondo nuovo, può essere un grande artista e quindi non romantico, qualcuno che in un qualche modo, dentro una delle forme della mediazione artistica del giorno d'oggi, fa entrare, consente che entri la violenza del nostro tempo, il michilismo esterno, il michilismo che ci domina. Chi è costui? Ciascuno di noi ha i propri idoli. In alcuni grandi performatori, performatrici di oggi c'è questo, che attraverso l'arte produce un sogno e che questo sogno è un incubo perché in realtà entra il male del mondo di oggi, non un generico male del mondo, quello di oggi. Perché Schmidt ce l'ha anche, esordisce nel vantagismo politico contro Byron, contro Baudelaire e contro Nietzsche. Ti credo, perché lì c'è, appunto, secondo lui, lì c'è il compiacimento, il compiacimento del male del mondo. Mentre invece, curiosamente, non curiosamente, non ce l'ha con Shakespeare, perché lì non c'è compiacimento. C'è altro che male del mondo, c'è il disorientamento, la rottura, della Repubblica Cristiana, la nascita del nomos moderno, che è il nomos di frattura, però non c'è compiacimento. Come si faccia a capire se dentro un'immediazione c'è la percezione della immediatezza tragica del mondo, e invece se c'è soltanto autonarrazione? Eh, l'autonarrazione lirica di un soggetto compiaciuto, beh, questa è una domanda a cui non c'è risposta, perché vuol dire che cos'è fare arte. Sì, anzi, le nuove tecnologie sono il trionfo della mediazione. Veniamo mediati, cioè trasformati dalla nostra carne in flussi di elettroni e diventiamo tutti avatar di noi stessi, e quindi l'elettronica è il cuore problematico. Insieme alla produzione di merce, la produzione di figura, di immagine, è il cuore problematico della nostra epoca. E questo è dovuto al fatto che qualcuno ha inventato l'elettronica. La differenza forte fra l'età dell'elettronica e l'età della meccanica è questo, l'età della meccanica ti costringeva a stare dentro un sistema in modo diverso e più percepibile. L'età dell'elettronica ti porta dentro un sistema in modo semplicissimo, immediato e a volte anche divertente. Sì, i media, gli strumenti della mediazione che costruiscono l'immensa bolla dentro la quale, la rete dentro la quale siamo accalappiati, della quale non so se riusciremo mai più a fare a meno, sono la manifestazione del romanticismo, anche se vengono veicolati contenuti assai poco romantici, ma l'essenza del romanticismo è una forma, non è come, appunto, Schmitt non ha fatto che dire, non sono dei contenuti, è un modo di stare al mondo. Ecco, il modo di stare al mondo ideologico. Questo è la via, questo testo è la via attraverso il quale Schmitt si dedica allo sport tipico dei filosofi, cioè la caccia alla ideologia, la critica dell'altro. Ecco, l'ideologia è credere alla facilità dell'ordine o alla definitività delle neutralizzazioni, alla semplicità. Non a caso, l'età moderna è l'età in cui si susseguono diversi ordini, perché? Ma perché nessuno di essi è fondato, perché non si può più, e nessuno di essi è consapevole della immensa difficoltà, non si dice della fondazione, ma di una momentanea stabilizzazione dell'ordine. Che cos'è la modernità? È una susseguirsi di immagini dell'ordine. Per cui la modernità è essenzialmente una pluralità di immagini dell'ordine instabile. E Schmitt non cerca altro che di stabilizzarne qualcuna, però per stabilizzarla è necessario avere uno sguardo genealogico, dal di sopra e dal di sopra. Con lo sguardo genealogico non è che ti risolvi il problema, ma lo vedi e vedendolo lo puoi in qualche modo gestire. Schmitt non si stacca, non può staccarsi, non è così stolto da pensare di fare il salto fuori dalla modernità. Lo sa benissimo che è catturato anche lui e che ogni ordine è catturato, solo che gli ordini, quelli seri, non nascono dalla fantasia di un soggetto poetizzante, nascono dalla violenza di un soggetto collettivo decidente, cioè da un potere costituente. La realtà storico-politica è infinitamente plastica, puoi fare quello che ti pare, se lo sai fare. Il che dimostra anche perché Schmitt a un certo punto diventa nazista, dice che colpa ne ho io. Se questi qua, quelli di Weimar, vanno tutti a pezzi, se è finito un mondo, non posso fare altro che assecondare criticamente, si fa per dire molto per dire, il nuovo. Ecco, spiegare il nuovo a se stesso. Naturalmente il nuovo non ha avuto nessuna voglia di stare a ascoltare le spiegazioni di Schmitt, insomma, è una storia che sappiamo. Miqui, ci racconta una storia che ci riguarda, non ci dà una soluzione. È una figura tragica, però era intelligente e ci dice delle cose che coinvolgono tutti. Cioè la fortuna, la fortuna incredibile di quest'uomo, della sua opera, dei suoi pensieri, nonostante si sia appunto alienato per 40 anni almeno le simpatie di quasi tutto il mondo. La fortuna dimostra in sé, è come una legge di mercato, se c'è questa domanda enorme, ci sarà un motivo, e non è che chiunque legga Schmitt è un nazista, un irrazionalista, è che c'è qualche cosa, c'è qualche cosa di radicale in questo pensiero, esibito quasi impudicamente. e ci interpella perché noi non siamo fuori da queste vicende. Noi siamo come intellettuali spesso portati al narcisismo romantico, come persone che ogni tanto si interessano di politica, scontiamo la nostra impotenza davanti al muoversi della storia nella quale non crediamo come in una sorta di spirito oggettivo, vediamo bene dove sono i poteri che la muovono la storia, però siamo ugualmente impotenti. Tutto quello che possiamo desiderare è la rivoluzione, la rivoluzione non è la uscita dalla modernità, è il modo di funzionamento della modernità, e ci accontenteremo di questo, e nemmeno questo ci è dato, perché vediamo soltanto il degrado, la rivoluzione è il catechum, cioè è il gesto grazie al quale si riesce a dire, bene, una certa serie di problemi non li abbiamo più, perché li abbiamo risolti. Adesso comincia una storia nuova. È tutto moderno questo discorso, non c'è l'uscita dal nichilismo moderno, però qualche cosina farebbe, qualche cosina servirebbe, nemmeno questo ci è dato. Voglio dire, dentro Schmitt c'è tutta la miseria dell'intellettuale moderno, del politico moderno, e al tempo stesso c'è la possibilità di nominarle, nominarle queste miserie, e queste aporie, e di non lasciarle sotto silenzio, non metterle sotto il tappeto, non farle diventare orrende chiacchiere da salotto. Questo è il motivo per cui, bene o male, molte persone, anche molto perbene, sono coinvolte nella lettura, nella riflessione intorno a questo straordinario personaggio.